ciao amici oggi ho cambiato l'olio all'ape e con quello che è rimasto ho fatto questa qui adesso vediamo cosa fa come suona grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti, mi raccomando, visitate la mia pagina Facebook, cliccate mi piace, se ne avete piacere, assolutamente, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.